Grazie a tutti. Nell'attesa, vogliate gradire alcune esclamazioni? Perbacco, po' farre, parbleu. Oui, je suis Catherine de Neuf. Sono nata a Parigi il 20 ottobre 1943. Sono il segno della bilanche. Altezza, un metro e sessantotto. Peso e forma, cinquantatré chili. Segni particolari. Bella. Misteriosa. Affascinante. Quindi c'è impossibile di scambiarmi per Loretta Coggi? Buonasera. In diretta dallo studio Fiera 2 di Milano, va un reno da Loretta Coggi in quiz. La RAI, in occasione del programma della signora Coggi, bandisce un concorso dal titolo Pagare fossi matto, riservato a tutti coloro che non hanno mai pagato il canone e che con questo programma hanno una ragione in più per non pagarlo. È un momento di mistero e di imprevedibilità. La Gogi imita, la Gogi arriva, la Gogi parla, la Gogi domanda, la Gogi ridi, la Gogi canta, la Gogi ridomanda, la Gogi sigla, la Gogi ospita, la Gogi telefona e se ne va. Più che un momento direi che è un supplizio che dura 90 minuti. Un supplizio senza fine. Poveretti noi senza fine. I beg you pardon, scusate tanto, ma sì, insomma, in un certo momento ce lo dobbiamo anche dire. Io sono una diva internazionale, insomma, ho lavorato con i più grandi registri del mondo, ho recitato con gli attori più bravi del mondo, insomma, sono un'attrice intellettuale. Ho vinto pure un Oscar. Beh, insomma, io con questa... What's the name? Eh, qual è il suo nome? Ah sì, Loretta Coggi. Beh, io non ci voglio venire niente a caffà. Parola di Sophie. Evviva! È di nuovo giovedì! E torna con il programma di quiz più eccitante dell'anno, la più osannata e temuta vedette del lettere, Loretta Coggi. Una vera cicca. Una vera chicca. Buonasera. Buonasera. Signori e signori buonasera. State comodi? Se volete, potete sciogliervi il nodo della cravatta. Per breve, andrei in onda dallo studio 2 della Fiera di Milano, in diretta dal vivo. Il gioco apremi Loretta Coggi in quizza. Nell'attesa, vogliate gradire alcune consonanti. C... P... R... Buonasera. In diretta dallo studio Fiera 2 di Milano, va ora in onda Loretta Coggi in quizza. Dato... L'indice di gradimento della signora Coggi, la RAI ha deciso di portare il numero delle trasmissioni da 30 a 365. Certi di avervi reso, come al solito, un cattivo servizio, vi auguriamo buon divertimento.